Rinnovato l'incarico per il presidente della Fondazione Cassa Rurale Battipaia, Federico Del Grosso, la fondazione attiva da tempo sul territorio, nata per volontà del gruppo di Banca Campania Centro, ha nominato il nuovo CDA. Il presidente afferma da subito che nel 2024 si darà spazio a progetti per la valorizzazione dell'associazionismo dei giovani e della cultura. Inoltre è già a lavoro su nuove iniziative per rafforzare l'impegno sui territori. Oltre ai consiglieri confermati, Rosa, Maria Caprino, Roberta Del Basso, Angelo Mammone, Roberto Manzo e Giampiero Pierro, nel CDA siederanno Giuseppe Catarrozzo, nominato vicepresidente, Giuseppe Alvigi e Franco Poeta, segretario generale, Marco Sprocati, revisore dei conti Carlo Palumbo. Sono stati progetti importanti messi a punto dalla Fondazione tra i più significativi del 2023, Costituzione e cooperazione caratterizzato da momenti di confronto su legalità e comunicazione rivolto in particolare ai giovani studenti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, liceo media e il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell'Università degli Studi di Salerno e dall'incontro in occasione dei premi scolastici di Banca Campania Centro del magistrato e saggista Nicola Gratteri. Un documentario per la valorizzazione del territorio e dei giovani dal titolo Achiana realizzato nell'ambito di Linea d'Ombra Festival, un progetto che mira a riscoprire la storia e i luoghi della Piana del Sele, insieme a Banca Campania Centro e Sportello Rosa APS, con il patrocinio di idee e associazioni delle donne del credito cooperativo e della Federazione Banche di Comunità Campania Calabria e tra i soggetti promotori del progetto Cassette Rosse in BCC, che si propone di contrastare la violenza sulle donne. Il 2023, ha dichiarato del grosso, è stato un anno importante grazie alle tante attività messe in campo con il supporto del presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarrozzo e del direttore generale Fausto Salvati e alle relazioni che abbiamo consolidato con università, fondazioni e associazioni, confindustria e ordini professionali. Per il nuovo anno puntiamo ancora di più sulla forza del network, abbiamo già in programma iniziative che coinvolgeranno i giovani e il mondo delle associazioni, a cui sarà destinato un progetto per favorirne la crescita con un sostegno concreto alle loro idee. La fondazione inoltre punta nel 2024 a confermare e rafforzare il suo ruolo nella valorizzazione dei giovani e del talento e nella promozione della cultura come veicolo di sviluppo territoriale. Presente all'insediamento del nuovo CDA, il presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarrozzo, che afferma di essere molto orgoglioso della crescita che sta avendo la fondazione Cassa Rurale di Battipaia. In questi anni, ha affermato Catarrozzo, la fondazione vuole porsi sempre di più come un collettore ed un anello di congiunzione tra tante realtà che solo unite possono contribuire ad una effettiva e costante crescita dei nostri territori. La fondazione inoltre esprime da sempre i valori di Banca Campania Centro, che quest'anno celebra i 110 anni di attività e avrà grande attenzione anche ai fenomeni economici in atto nella nostra provincia, decidendo in modo sostanziale sulla cultura d'impresa, sulle innovazioni, sulla sostenibilità ambientale, con il sostegno di una finanza moderna e sempre a passo con i tempi.